ciao da max altro telefono della mia oserei dire sterminata collezione è un nokia 5002 della serie express music perché perché vedete che anche il simbolino della nota permetteva schiacciando questo tasto di entrare nel menu musicale questo è un telefono dedicato per lo più a un pubblico giovane che voleva utilizzare il terminale in mobilità con un ottimo altoparlante la fotocamera per ascoltare principalmente musica infatti la cosa più importante anche all'epoca sembra incredibile oggi oggi che tutti i telefoni si connettono tramite bluetooth o tramite un jack da tre e mezzo in realtà una volta avere un jack guardatelo qua proprio standard era per nokia anche abbastanza una rarità questo si poteva utilizzare da chiuso come lettore mp3 classico no vedete andare avanti indietro bello il jpad mentre quando lo aprivo diventava un telefono a tutti gli effetti uno dei pochissimi slide telefoni di nokia ed era molto resistente poteva accadere un sacco di volte e non si rompeva quindi che dire un telefono che era un precursore di poi dell'utilizzo che poi se ne fa ora cioè la multimedialità ormai la fa da padrone una volta invece agli arbori della tecnologia dei telefoni moderni diciamo che era ancora una nicchia di mercato si utilizzava l'ipod o comunque lettori mp3 e molto meno il telefono questo è stato uno dei primi lo schermo è non definito al 100 per non proprio uno schermo eccezionale però faceva il suo lavoro e anche le dimensioni non erano male dello schermo ecco se lo confrontiamo ora con i telefoni odierni diciamo che lo spessore se vogliamo guardiamolo qua incredibile lo spessore mostra chiaramente che i tempi sono sono cambiati comunque molti di voi se lo ricorderanno l'avranno anche avuto anche di altri colori meno diffusi insomma un telefono di qualità ripeto lettore mp3 pure telefono classico come tutti in occhia dell'epoca che avevano una fotocamera almeno dai media in su uno splendido specchio che permetteva di fare selfie nel miglior modo possibile possibile visto che non non aveva la fotocamera anteriore ovviamente gps wifi tutto questo non non ne aveva ma all'epoca non ce n'era bisogno le canzoni si potevano portare sostanzialmente tramite la nokia suite se non si voleva se non si voleva utilizzare bluetooth o le connessioni wireless appunto del bluetooth per il resto un telefono di ottimo successo perché poi è stata tutta una serie di express music che nokia ha presentato nel corso degli anni comunque siamo nel 2000 quasi 23 questo telefono qua secondo me fa ancora la sua porca figura diciamo così è bello e a suo modo rivoluzionario ciao da max dal canale